Benvenuti a tutti in questo nuovo video cari amici di VIKTEC Oggi altro unboxing Andiamo a vedere cosa c'è dentro questo pacco Ecco a voi il sistema audio Bluedio UFO US Andiamo a vedere cosa c'è dentro la confezione Eccolo qui il nostro piccolo mostro Due driver da 2,5 watt Quello centrale da 5 watt Un totale di 10 watt Dovrebbe essere anche portatile Come vediamo qui ha uscito jack e micro usb per la ricarica Due piccole confezioni per gli accessori Vediamo cosa c'è all'interno Cavo jack jack, cavo di ricarica usb micro usb In quest'altra scatolina abbiamo una tracolla Per portare la cassa Bluetooth con noi Presto la recensione su viktech.net di questa cassa Vedremo come si comporterà Mi raccomando seguiteci ancora sul nostro sito Seguite i nostri social Un saluto a tutti da Vittorio per viktech.net Grazie a tutti